Si terranno lunedì alle 15.30 nella chiesa di San Francesco, nel cuore di Bassano del Grappa, i funerali di Giamberto Pettoello. La sua scomparsa ha destato grande dolore in città, dove lo storico era molto amato per le sue doti di ricercatore e umane. Se ne va un amico per me, prima di tutto, un'amicizia strana nata durante il mio periodo in amministrazione da vice sindaco, ci siamo conosciuti lì e poi continuata dopo in maniera quasi incredibile. Devo dire oggi, posso dire oggi, che forse è una delle cose più belle che ho vissuto come amministratore, il fatto di aver avuto la possibilità di conoscere Giamberto. Pettoello sapeva trasmettere a chiunque quel che assimilava dai suoi studi e sapeva anche andare a caccia delle fonti più importanti per conoscere sempre più a fondo Bassano e la sua storia. Lui studiava Bassano leggendo le fonti, non soltanto i libri scritti da altri, quindi uno storico rigoroso, una figura, io credo, che difficilmente sarà sostituibile. Pettoello era stato anche amministratore cittadino, ricoprendo per più di 15 anni il ruolo di consigliere comunale. E anche in questo caso sindaci e assessori che hanno avuto modo di lavorare o collaborare con lui sono stati in qualche modo segnati dalla sua visione, dalla sua capacità di sviscerare la storia di Bassano dalle origini ai giorni nostri. Voglio ricordare il professor Giamberto Pettoello innanzitutto come un amico. La sua presenza in consiglio comunale è stata per circa 20 anni militando nel partito repubblicano eppure essendo un avversario c'è sempre stato un grande rispetto sulle idee e sulle decisioni che abbiamo preso in consiglio comunale. È stato anche un professore illuminato di filosofia, di storia della filosofia e un grande ricercatore. Io credo che ha passato tantissime giornate all'interno del nostro Museo Civico di Bassano. Un omaggio a lui, condolianze alla famiglia.